Il mio primo lavoro è che avevo 15, 16 anni, 16, 15, 16, 17 anni, che la regione faceva dei corsi, la regione faceva dei corsi in quei tempi, venivamo pagati, ci davano tanto al giorno e si imparava il mestiere, io avevo preso il lavoro come ricamatrice, infatti ancora ricamo, c'erano maglieriste, sartoria, maglieriste e ricammatrici. Il mio primo lavoro è stato il corso di ricamo per tre mesi e poi stavo così, senza lavoro. Grazie. 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 Grazie.